ora ci concentriamo sui pagamenti elettronici e internet l'uso di carte di credito e bancomat è certamente il modo più sicuro per spendere i nostri soldi poiché ci sottrae al rischio di farsi togliere il denaro dalle mani venendo meno il contatto fisico con l'eventuale malintenzionato non custodire assieme nei portafogli sia le carte di credito o i bancomat sia i loro codici segreti porta al seguito il numero telefonico per bloccare la carta di credito o il bancomat in caso di smarrimento o di furto quando ti recchi allo sportello per prelevare inserisci subito i soldi nel portafogli e contali in auto o a casa se sullo sportello bancomat sono state applicate apparecchiature postice o risulta danneggiato evitalo potresti rischiare che il tuo codice venga copiato e la carta clonata prima di ogni operazione